Salve a tutti, sono in compagnia di Simone Abate, che si è laureata campionessa italiana juniores nella categoria 63. Tanti sacrifici prima di arrivare a questo risultato, immagino, no? Sì, certo, ovviamente tanti sacrifici, gli allenamenti, l'impegno ci vuole. Questo è il tuo primo titolo italiano, cosa si prova a vincere? Tanta emozione, neanche ci crederò, è stato molto bello. Quando hai vinto il primo pensiero è andato a? Al maestro, di ringraziarlo per tutte le veramente che abbiamo fatto, a tutti quelli che mi sono stati vicini. Chi è il maestro? Il maestro ministro, e poi anche a servodore Allena, che è anche lui, c'è un domani. Che rapporto hai con salvatore? Un rapporto buono, a lei e a me, anche a me, a me. Sei una studentessa del liceo linguistico, abbiamo scoperto che è portafortuna perché parecchie campioni si intervano oggi, fanno il liceo linguistico, quindi continua su questa strada, ci facciamo il nostro approccio per i prossimi impegni, è già arrivata una concreazione della nazionale? Sì. Bene, allora in bocca a buco. E come di consueto, chiudiamo la nostra intervista con il nostro motto, che è Italia Giudo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti